Un telefonino scagliato lontano al primo tentativo di reazione, una maldestra mossa di karate che provoca la frattura scomposta del gomito. Vittima un ragazzino di 12 anni, il Bulletto, un ragazzino anche lui, 14 anni non ancora compiuti. Il tutto si è consumato l'altra sera in un parchetto lontano dal centro di Villanova di Cepagatti e dal parco centrale dove si riuniscono quotidianamente ragazzi e spesso genitori. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Cepagatti ma gli aspetti ancora più inquietanti di questa vicenda sono l'indifferenza degli altri ragazzini presenti mentre la vittima si lamentava dolorante a terra e ancora più grave a seguito della diffusione della storia con tanto di foto su una pagina Facebook di Villanova i commenti di numerosi adulti, in minoranza per fortuna rispetto alla manifestazione di assoluta solidarietà alla padre della piccola vittima in cui si invitava sostanzialmente a insabbiare l'accaduto, a lasciar perdere. Qualcuno addirittura ha accusato il papà di essersi inventato tutto. Quello che è accaduto a mio figlio è una cosa gravissima perché non c'è stato il primo soccorso, non c'è stato un sostegno da amico, non c'è stata una responsabilità civile nel rendersi conto della gravità e dopo anche la beffa di genitori che hanno giudicato questa cosa di cui io ho denunciato irreale, da me costruita. Questa fa male e non ti dà una pace interiore perché mio figlio non lo posso chiudere sotto una campana. La società è questa, dobbiamo fare qualcosa per questi ragazzi. Genitori impreparati che non sanno come giustificare le azioni dei propri figli e vanno tutti riallineati su binari che questi binari devono costruire. Gli enti pubblici che manca a mio figlio, voglio che dimentichi questa cosa che si ricreda nella sua compagnia, scuola di tutto, che questo sia stato un brutto sogno, una cicatrice però che dovrà essere guarita. Questi ragazzi, soprattutto il presunto aggressore, vanno aiutati? Questo va sottolineato? Non ne facciamo dei mostri, però devono cercare di collaborare con gli altri, non fare della propria prestanza fisica un'arma e di essere tutti quanti uguali come noi da bambini lo eravamo.